Nel silenzio generale della Lega, solo il salviniano Massimo Bitonci, sottosegretario all'economia, che del governatore è un rivale storico, è venuto in soccorso in queste ore a Luca Zaia di fronte all'attacco di Flavio Tosi in materia di sanità. Altro leghista, Tosi, è andato ben presto in rotta di collisione col presidente del Veneto. Accuse infondate, solo Livore da parte di Tosi, dice Bitonci, ma il coordinatore regionale di Forza Italia, che una replica se l'aspettava semmai da Zaia, non torna sui suoi passi. Omari dovrebbe, anziché buttare la palla in tribuna, lui e la Lanzarina, rispondere sul tema. Non è una questione di polemica politica, è un tema che ha posto il presidente delle case di riposo dicendo siamo sotto e dovremmo aumentare le rette, ed è un tema quello dell'estate attesa. Che la sanità in Veneto abbia bisogno di un complessivo ripensamento lo ha capito anche Fratelli d'Italia, rincara il coordinatore azzurro. Se fosse una rivalità tra Flavio Tosi e Luca Zaia, allora tutti quelli che ci stanno guardando da casa o dal bar, da dove hanno la televisione che ci guardano, direbbero caspita Tosi attacca a Zaia per motivi personali, perché il sistema socio-sanitario Veneto va da dio, le liste d'attesa non ci sono, in RSA si trova posto per i nostri anziani, le rette sono calmierate. Se è così gli attacchi di Flavio Tosi sono insensati, ma siccome non è così, perché questi problemi ci sono, il sottoscritto, ripeto, ha preso atto delle dichiarazioni fuori luogo dell'assessore Lanzarin, che ha detto che se ci sono problemi nelle case di riposo è colpa dello Stato, che non ha nessuna competenza, e ho spiegato alla Lanzarin, che già lo sa, che la competenza sulle case di riposo è regionale e quindi sono loro a dover intervenire. Prove di forza in vista delle elezioni regionali. Di sicuro Tosi, da coordinatore di Forza Italia, non ha intenzione di giocare un ruolo da comprimario e su una sua eventuale candidatura a presidente risponde. Non ci fosse un ulteriore mandato, se aspettasse a Forza Italia, ma ripeto, lo si saprà ben più in là, a quel punto Forza Italia potrà scegliere fra Flavio Tosi e altri esponenti regionali o parlamentari o sindaci che oggi Forza Italia esprime bene. Quello tra Zaia e Tosi non è l'unico botta e risposta tra alleati nel centrodestra di queste ore. Il post dell'assessore leghista Roberto Marcato, che ironizza sul criterio di meritocrazia con cui Giorgia Meloni, dopo il cognato Francesco Lollobrigida, ministro dell'agricoltura, ha nominato a capo della segreteria politica di Fratelli d'Italia la sorella Arianna, non è piaciuto al partito della Premier, che cerca comunque di scansare le polemiche. A mio modo di vedere, la meritocrazia in questo caso è stata applicata perché Arianna Meloni è una persona che merita e giustamente oggi ha un incarico importante nel nostro partito.